Clic! Ben ritrovati i miei cari avventori dell'Ugiona per Calcio. Questa mattina andiamo a vedere insieme, a parlare, dell'affaire Marco Arnautovic perché sta seminando ansia, paura, terrore tra le vie di Bologna nonché soprattutto fra i miei avventori, nonché tifosissimi del Bologna Football Club. Adesso andiamo a vedere perché non c'è ragione che ciò esista. Ve lo spiego, ok? Così che ci calmeriamo tutti. Poi andiamo anche a vedere magari altre trattative tra le quali l'asta impazzita che sta impazzando sul Tomijansu, Ikei che avrebbe richieste oltre che dalla Fiorentina dove c'è stato un interessamento nei giorni scorsi ma ci sarebbe un'offerta ufficiale da parte dei Celtic di Glasgow. Quindi andiamo a vedere anche altre trattative del Sottobosco. Prima però di iniziare, ammrakman, miei cari avventori, fate subito cosa saggia, buona e giusta clicca il tasto rosso, iscriviti al canale delusione barcaccio, condividi, condividi questo canale con tutti i tuoi amici di Federo su Blu, anche le donzelle, anche le donzelle e lascia subito un mi piacino ai video delusione barcaccio. Allora, nei giorni scorsi, cioè mi sembra ieri, è uscita una notizia che ha fatto tremare il mondo, ok? che voleva e vorrebbe Mark Aronatovic appunto corteggiato da squadre turche e russe. Infatti sarebbe spuntato fuori che il Krasinodar, che è una squadra russa, e il Besiktas e il Fenerbahce, guarda caso proprio la società dell'ultimo nostro interessamento in casa appunto turca del Fenerbahce su Dimitrius Pelkas, sarà un caso? Non lo so. Ok, queste tre squadre appena citate, poc'anzi, sarebbero interessatissime a prendere Mark Aronatovic e si legge addirittura che sarebbero pronte a pagare l'indennizzo di 4 milioni di euro che la società dello Shanghai non vuole corrispondere come buon'uscita al Mark Aronatovic che è la motivazione del perché oggi ancora Mark Aronatovic è tesserato sotto appunto la filiale cinese. Perché Mark Aronatovic vuole svincolarsi, ok, ma per farlo vuole una buona uscita di 4 milioni di euro e lo Shanghai, la società cinese, non vuole corrispondere tale cifra al giocatore. Pertanto o qualcuno viene a pagare quella somma o altrimenti non so come possa appunto sbloccarsi tale trattativa al che appunto Krasnodar, Besiktas e Fenerbahce si erano fatte pronte per pagare tale indennizzo ma, e questa è la notizia calmierata che vi do adesso, Aronatovic vuole sempre e solo il Bologna Football Club. Ok, Aronatovic ha dato la sua parola, come ho già detto in precedenza, a Sabatini, a Bigon, a Divaio, a Mijailovic, ok? Ha dato la parola probabilmente a Joei, grazie, saputo. E Mark Aronatovic non verrà meno a tale parola. Tale mia convinzione non è che sia suffragata da chissà quali fonti che io possa avere, ok? Ma è suffragata dalla, diciamo, gestione della cronologia storica di questa trattativa. Nel senso che, proprio nella giornata di ieri l'altro, Mijailovic, ok? All'evento liberi, lì a Villa Pallavicini, ha detto espressamente che Mark Aronatovic sarà un giocatore del Bologna Football Club. L'ha detto con una sicurezza del 100%. Sabatini, nella settimana scorsa, ha parlato di Mark Aronatovic come di un futuro giocatore del Bologna. Lo stesso Bigon, che è il più abbottonato del listone dirigenziale del Bologna Football Club, non smentì la cosa e disse che è una trattativa in essere, ma che, appunto, non ne poteva parlare oltremodo perché era ancora vincolato contratualmente alla società cinese. Ma non disse che è una trattativa che non c'era e che non aveva modo, appunto, di essere discusse. E quindi lasciò intendere anche lui che è un qualcosa che si farà, altrimenti avrebbe detto qualche altra parola. Quindi, o tutti qua si sono ammattiti, va bene, oppure c'è qualcosa di più di una parola, ok? Quindi, come si risolverà questa storia dei 4 milioni? Perché è ovvio che se lo Shanghai non gli vuole corrispondere, non è che se si aspetta la situazione possa cambiare così d'emblé. Secondo me è già previsto un intervento da parte del Bologna Football Club, da parte, appunto, di Joel Graz e Saputo, che arriverà, io penso, magari alla firma di Mark Arnautovic, dove gli si corrisponderanno quei famosi 2,7 milioni di euro più bonus e, come si suol fare, alla firma ci sarà un bonus. Un bonus alla firma che tutto lascia pensare possa essere, magari, dico una cosa io così la sparo. Per me ci sarà un bonus alla firma sui 5 milioni di euro, dove 4 sono quelli che, appunto, poi verrebbero corrisposti allo Shanghai. E uno, magari, se lo pappa Arnautovic e il suo procuratore, così per avere, diciamo, scelto Bologna e per, appunto, fare capire la gratitudine da parte del Bologna stesso di avere Mark Arnautovic vestire rosso-blu. Secondo me andrà a finire così, come Arnautovic stesso sa che sarà ok. Quindi questa attesa che c'è da parte, un attimo, di tutta la truppa, non so da che cosa possa essere data, sinceramente. Secondo me è un'attesa di, magari, preparare tutta quella burocrazia, cioè quelle cartacce che ci saranno in ballo avvocati, sia da parte dei cinesi, sia da parte, appunto, del Bologna e di Mark Arnautovic stesso, perché qui sono tre parti che si devono tutelare, ovviamente, perché ci sono tre soggetti in ballo, Shanghai, la società cinese, il Bologna Football Club, la società, quindi, italiana, e poi il giocatore stesso, ovviamente, che non vorrà a prendere un'inculata. Quindi sono tre parti che dovranno un attimo, tramite avvocati, ok, loro uomini di fiducia, di amministrazione, i burocrati, dovranno un attimo ridimere la situazione. Però, ecco, l'affare non è in dubbio, e quando io leggo che Krasiano Darby, Ziktes e Fenerbahce vogliono tentare Mark Arnautovic, è, diciamo, un grido che stanno facendo nel deserto, perché Mark Arnautovic sarà un giocatore del Bologna Football Club. Quindi, state tranquilli di questo, sempre che questa notizia vi possa far stare tranquilli. Ma questo è un altro discorso. Poi, detto questo, che ci tenevo un attimo a rimettere i puntini sulle i, perché mi rendo conto che possano destabilizzare le voci che si rincorrono in questi giorni su Arnautovic, voi lasciatevi pensare, adesso ci sarà la ogni, fino a che non sia ufficiale, ma ripeto, Arnautovic sarà un giocatore del Bologna. Bene. Poi, Arnautovic c'è un'offerta ufficiale, a quanto pare, da parte del Cettic di Glasgow, che avrebbe offerto 4 milioni di euro al Zugador, ma il Bologna fa muro, ok? Dicendo addirittura che eventualmente si siederebbe al tavolo solamente a una cifra di 8 milioni di euro. Quindi a me anche questo lascia sinceramente un attimo il dubbio, nel senso che crediamo talmente tanto in Ikei, che addirittura si legge in taluni articoli che Mijelovic gli darebbe, ok, la fascia di difesa sinistra da titolare la prossima stagione, che io sinceramente non vedo come possa essere possibile, sono sincero. E quindi crediamo talmente tanto sul giocatore e poi ci siederemo al tavolo per una cifra di 8 milioni di euro, alla faccia di quanto ci si crede, mi verrebbe da pensare. Per questo non posso credere a questa sorta di buttata giornalistica di mercato, questa qui è semplicemente un rumor che non sa proprio di esistere, perché non avrebbe senso, rientrerebbe eventualmente laddove dovesse poi avere senso, nel no sense di questo pacchetto dirigenziale. E quindi io voglio pensare che non abbia senso. Ok, poi altre notizie che erano uscite, Tomi Asus è scatenata, come vi ho raccontato anche nella giornata di ieri, un'asta folle furibonda, furibonda tra West Ham, Tottenham e Arsenal, che adesso sono lì, che sono a colpi, no io offro 18, tu 19, io 20, allora io 21. probabilmente si arriverà anche, chissà, ai 25 richiesti da parte del Bulagna. Al primo che offre 25, qua il Tomi Asu, glielo diamo insieme a un po' di sashimi, ok? Bene, poi altre notizie, mi sembra, sì, Sabatini ha parlato a Radio Kiss Kiss, ha rilasciato le sue notte alcoliche solite, parlando di scouting e Svanberg, e dicendo che non gliel'ha chiesto nessuno, che Svanberg è un centrocampista universale, ma il Partenopei, cioè il Napoli, non gliel'ha mai chiesto. Il Napoli ha preso un grande allenatore come Spalletti, l'ha visto qualche giorno fa ed è molto carico. Mi verrebbe da chiederti, mio caro Walter Sabatini, perché tu non abbia pensato allo Spalletti qui a Bologna? Però, chiusa parentesi. Bene, quindi anche su Scouting e Svanberg, non ci sono notizie, non ci sono offerte, quindi con tutta probabilità, a meno di offerte irrinunziabili, incredibili, rimarranno fortunatamente a Bologna. Va bene. Poi, fatemi vedere se mi sfugge qualcosa, sì, mi sfugge qualcosa, in quanto sempre nella giornata di ieri, visto e considerato che Skorupski è in bilico, in quanto la società non vorrebbe rinnovargli il contratto, e allora starebbe pensando ad un portiere, ok, che corrisponde al nome di Luigi Seppe, cioè il portiere che adesso è a Parma, ma che con l'arrivo di Buffon non vuole fare il, diciamo, sostituto per lo più in Serie B. Quindi, Luigi Seppe è in uscita da quel di Parma e adesso il Bologna ha chiesto informazioni perché è interessato a lui. A me verrebbe da fare subito un ragionamento, nel senso, ok, che Skorupski non dà certe garanzie, però, insomma, pensare che Skorupski possa essere sostituito in meglio da Luigi Seppe, io qualche domanda, sinceramente, me la porrei. Va bene? Ok, perché non è tanto per cambiare, bisogna cambiare in meglio, in molto meglio, ok? Perché a me non sembra che Luigi Seppe faccia fare chissà quali passi in avanti, anzi, ok? Quindi, stiamo un attimo accorti, attentini. Bene, direi che con questo sia tutta la carrellata del mattino. Oggi pomeriggio farò uscire un video, probabilmente, sopra, sopra gli allenatori, parlando un attimo di quello che ho visto in campionato europeo, Luis Enrique, ho visto l'intervista post-gara, post-gara, veramente bella, in conferenza, di un signore allenatore, lo stesso Roberto Mancini, e volevo fare un attimo uno spaccato su queste figure, e compararlo un attimo a quella che abbiamo qua a Bologna, cioè, Sinisja Mielovic. Questione di stile, quindi, farò un video sulla questione di stile, e andrò anche a rispondere a quei miei cari avventori, che un attimo mi criticano quando proferisco il verbo Sinisja Mielovic, vorrei fare capire a loro, chi non è che parli di Sinisja Mielovic, perché lo voglia denigrare a tutti i costi, ok? Quindi andremo un attimo a tirare le sorte, le fila anche di quel discorso. Bene, attivate quindi il campanaccio pastorale, per rimanere sempre aggiornati qui allo Giorgio del Calcio dei nuovi video, e noi ci sentiamo alle prossime. chiacca da buono?